Per Mestre Venezia e Provincia sarà un venerdì di passione il prossimo 24 novembre per lo sciopero di 8 ore indetto da CGL Will a partire dalle 9 del mattino contro l'ultima manovra di governo e contro le vittime di femminicidio nel ricordo di Giulia Cecchettin. Apriremo su questo il corteo con uno striscione molto chiaro ma credo anche assumendoci la responsabilità come uomini militanti di organizzazioni sindacali della situazione che le donne vivono nel nostro paese. La mobilitazione del manifatturiero, dal chimico al tessi, del terziario e la parte del settore dei trasporti che non ha aderito a quello dello scorso 17 novembre. Non ci piace perché non va bene per le persone, non va bene per lavoratori e lavoratrici e men che meno per pensionati e pensionate perché va a togliere ancora diritti e potere d'acquisto alle persone che lavorano. Stiamo vivendo una fase di impoverimento dei lavoratori. Bracce incrociate anche contro Italia e gli enti locali per il Veneto un ammanco di 28 milioni di euro che peseranno e non poco sulle famiglie a cominciare dalla sanità ad esempio sia in termini di liste d'attesa sia con l'aumento delle rette nelle RSA. Si sciopera anche contro la privatizzazione di Veritas e CTV per fare cassa ben 22 miliardi. Due servizi che sono essenziali a cui si aggiunge quello alla salute, alla sanità perché anche su questo ci sono tagli importanti, tagli che vengono quantificati in centinaia di milioni di euro e che riguardano anche gli enti locali. Dalle 9 del mattino il corteo venerdì partirà dalla sezione di Mestre, attraverserà mezza città per poi arrivare in presidio al municipio di Via Palazzo.